In questo tutorial vediamo degli esempi riguardanti la condizione di esistenza di radicali. Partiamo da questo primo esercizio. Abbiamo una radice di indice pari e allora dobbiamo garantirci che l'argomento del radicale deve essere una quantità maggiore o uguale a zero. E allora come condizione di esistenza dovrò porre meno 5x alla terza fratto a alla seconda maggiore o uguale a zero. Osserviamo che abbiamo una disequazione con due incognite. Per quanto riguarda la x dovremo imporre che meno 5x alla terza deve essere una quantità maggiore o uguale a zero. Per quanto riguarda la a dovremo imporre a alla seconda maggiore di zero. Osserviamo non si mette l'uguale a zero perché a si trova denominatore, cioè a non può essere uguale a zero. Otteniamo così un sistema di disequazione in due variabili che andiamo a risolvere. Per quanto riguarda la prima disequazione come prima cosa moltiplichiamo tutte e due i membri per meno 1 e cambiamo verso. 5x alla terza minore o uguale a zero. Dividiamo ora tutte e due i membri per 5 e semplifichiamo il coefficiente di x alla terza. Abbiamo così x alla terza minore o uguale di zero. Estraiamo ora la radice cubica di tutte e due i membri. In questo modo semplifichiamo la radice cubica con la potenza 3 e quello che si ottiene è x minore o uguale di zero. Per quanto riguarda la seconda disequazione, a alla seconda maggiore di zero, essa viene sempre verificata tranne il caso in cui a è uguale a zero, in quanto zero al quadrato è pari a zero e zero non è maggiore di zero. E allora per quanto riguarda la parte in a avremo come condizione di esistenza a diverso da zero. Ora abbiamo tutti gli elementi per calcolare il campo di esistenza di questo radicale. Sarà composto da x minore o uguale a zero e a diverso da zero. Passiamo a questo secondo esempio. L'indice della radice è dispari, quindi la radice non genera alcuna condizione di esistenza. Fissiamo ora l'attenzione sull'argomento del radicale, meno b alla terza. Abbiamo un polinomio e quindi al posto di b possiamo sostituire qualsiasi valore. Questo vuol dire che tale radicale ha come campo di esistenza tutti i valori reali. In altre parole, in b possiamo sostituire qualsiasi valore e ottenere sempre un radicale che ha senso. Vediamo quest'altro esempio. Osserviamo che l'indice della radice è pari e allora dobbiamo imporre come condizione di esistenza che il suo argomento deve essere una quantità non negativa. E allora devo scrivere meno a protonda meno 2a alla terza maggiore uguale di zero. Sviluppo questa potenza, meno al cubo ottengo meno, per meno ed ottengo più. Quindi non scrivo nulla. 2 alla terza ottengo 8 e poi abbiamo a alla terza maggiore uguale di zero. Divido ora tutte e due i membri per 8 e semplifico il coefficiente di a ed otteniamo a alla terza maggiore uguale di zero. Estraggo ora la radice cubica di tutte e due i membri e a primo membro semplifico la radice cubica con la potenza 3 e si ottiene a maggiore uguale di zero. Vediamo quest'altro esempio. Osserviamo che la radice di indice dispari, quindi la radice non dà alcun contributo alle condizioni di esistenza. Fisso ora l'attenzione all'interno della radice. Abbiamo una frazione e allora vuol dire che dobbiamo garantirci che il denominatore di questa frazione, ossia y alla quarta, deve essere diverso da zero, perché se y fosse uguale a zero avremmo 1 diviso zero e quindi avremmo una frazione priva di significato. Estraggo ora la radice quarta di tutte e due i membri e a primo membro semplifico la radice quarta con la potenza 4 e si ottiene che y deve essere diverso da zero. Andiamo a calcolare il campo di esistenza di questo radicale. L'indice della radice è pari, allora dobbiamo imporre che il suo argomento, meno x alla seconda, deve essere una quantità maggiore o uguale a zero. Moltiplico ora tutte e due i membri per meno 1, x alla seconda, minore o uguale a zero. Osservo che una quantità al quadrato non può essere una quantità minore di zero. Una quantità al quadrato al massimo può essere uguale a zero. Quindi l'unica soluzione che abbiamo è x uguale a zero. In altre parole, tale radicale radicale ha senso soltanto nel caso in cui x vale zero. Passiamo a quest'altro esempio. L'indice della radice è pari e allora dobbiamo imporre come condizione di esistenza che meno x al quadrato deve essere una quantità maggiore o uguale a zero. Sviluppo questa potenza ed otteniamo x al quadrato maggiore o uguale a zero. Osservo che tale disequazione risulta essere sempre vera, in quanto una quantità al quadrato o è positiva o al massimo è zero. E allora il campo di esistenza di questo radicale risulta essere r, ossia tale radicale ha senso per qualsiasi valore reale. Vediamo questi altri due esempi e calcoliamo il campo di esistenza di questo radicale. L'indice è pari e allora dobbiamo imporre che il suo argomento 4 meno x deve essere maggiore o uguale a zero. Risolvo ora questa disequazione. Porto il 4 al secondo membro, meno x maggiore o uguale di meno 4, moltiplico tutti e due membri per meno 1 e cambio diverso e si ottiene x minore o uguale a 4 e allora tale radicale ha senso per valori minori o uguali a 4. Passiamo a quest'altro esempio. L'indice della radice è pari e allora dobbiamo imporre come condizione di esistenza che il suo argomento 18a meno 12 deve essere maggiore o uguale a zero. Risolvo questa disequazione. Porto meno 12 al secondo membro. 18a maggiore o uguale di 12. Divido ora tutte e due membri per 18 e semplifico il coefficiente della a. A secondo membro posso dividere per 6. 12 diviso 6 ottengo 2, 18 diviso 6 ottengo 3 e allora si ha che a deve essere maggiore o uguale di due terzi. Vediamo questi ultimi due esempi e calcoliamo il campo di esistenza di questo radicale. L'indice della radice è pari e allora ci dobbiamo garantire che il suo argomento 1 meno 3x fratto 2 deve essere una quantità maggiore o uguale a zero. Risolvo ora questa disequazione. Moltiplico tutte e due membri per 2 e semplifico il 2 a denominatore ed ora porto 1 a secondo membro e si ottiene meno 3x maggiore o uguale di meno 1. Moltiplico tutte e due membri per meno 1 e cambio verso. 3x minore o uguale di 1. Infine divido tutte e due membri per 3 e semplifico il coefficiente della x. Sia così che x deve essere minore o uguale di un terzo. Vediamo quest'ultimo esempio. Osserviamo che l'indice della radice è dispari quindi la radice non genera alcuna condizione di esistenza. Fisso allora l'attenzione sull'argomento della radice. Abbiamo 2 meno x. 2 meno x è un polinomio e il polinomio ha senso per qualsiasi valore di r. In altre parole il campo di esistenza di questo radicale risulta essere r. E con questo termino il tutorial sulle condizioni di esistenza dei radicali.